Siamo qui con Salas, bellissima partita del Napoli, una tripletta che ovviamente vale fino a un certo punto perché la cosa importante oggi erano i tre punti. Sì, sì, è una bellissima vittoria, no? Credo che da un mese e qualche giorno che non vinciamo, no? Quindi questi tre punti sono di oro. Adesso continuiamo a lavorare perché martedì c'è un'altra guerra che è quella di Torino. Ovviamente tantissimi assenti nel Napoli, assenti De Luca, Borruto, Mancuso, ma questa squadra comunque è riuscita a disputare una grandissima prova vincendo e adesso aspettano tra L84 e Final Four due eventi molto importanti per il Napoli. Sì, sì, anche Duarte che sta facendo un lavoro eccezionale. Sì, sì, come hai detto, arriva l'L84 dopo il Mantua e dopo abbiamo la Coppa, che è il primo trofeo che noi andiamo a cercare per portare qua a Napoli. Grazie Salas, premiato anche da Momap, sponsor del Napoli, Ciolito Salas, autore di una tripletta quest'oggi, premiato come migliore in campo del Napoli. Il Ciolito Salas, premiato da Momap, sponsor del Napoli. E poi abbiamo qui il giocatore del Verona una gara che il Verona ha provato a disputare sin dall'inizio cercando in tutti i modi di impenserire il Napoli, tuttavia non siete riusciti a trovare la via del gol nel momento decisivo durante la prima frazione di gioco, chiaramente. Sì, secondo me abbiamo fatto una buona gara, il primo tempo anche molto buono, abbiamo iniziato bene il secondo tempo con l'approccio giusto, però ci è mancata un po' la profondità della rosa che è il Napoli e ovviamente la qualità che è molto alta di loro, infatti la classifica lo dimostra.